Salve a tutti iscritti da TheShareGaming, sono Favijay. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento importante. Con oggi il canale darà via ad una nuova rubrica, che verrà pubblicata appunto sul nostro canale. Questa rubrica tratterà di videogames, come trattiamo a noi sempre, ma non videogames qualsiasi. Tratteremo dei videogames che sono stati dati da diverse case produttrici, con l'unico scopo di tenere incollato al monitor e videogiocatore, inducendolo a guardarsi intorno di tanto in tanto. Sto parlando di videogiochi dell'orrore. In questa rubrica quindi non verranno trattati i videogiochi qualsiasi, ma i videogiochi che sono stati reputati i più spaventosi di sempre. Farò il vero e proprio walkthrough, ovvero dei gameplay che trattano questi videogiochi dall'inizio alla fine della storia, e tutti quanti saranno commentati in live. Le reazioni di terrore saranno spontanee e non ci sarà nulla di preparato, quindi insieme a voi intraprenderò questo viaggio nell'insidioso mondo degli incubi. E infine, per raggiungere un tocco in più ai video, vi basterà sapere che io giocherò e commenterò in live questi videogames, restando nella mia camera completamente al buio. Quindi ragazzi, preparatevi ad entrare nel mondo di giochi nel buio. Grazie a tutti.